Cosa distingue noi italiani dal resto del mondo? Il saper vivere in maniera slow, il saper fare, l'arte, la cultura e anche il buon cibo, i nostri paesaggi curati dall'uomo, le coltivazioni che diventano straordinari scenari per gli occhi. Eppure la società moderna si è allontanata da tutto questo, da ciò che siamo, da ciò che ha reso gli italiani diversi dal resto del mondo. Così è aperto il convegno sull'agricoltura 2.0 al Festival di Internet Vittorio San Giorgio, presidente di Coldiretti Salerno, presentando il progetto Rural Hub, pensato e costruito insieme al co-founder di Ninja Marketing Alex Giordano. Ma cos'è Rural Hub? Uno spazio fisico e virtuale che mette in connessione persone, idee e progetti dell'innovazione sociale applicata alla ruralità. Insomma, un vero e proprio incubatore di impresa rurale dove vivere insieme, lavorare, formarsi, far crescere l'agricoltura e innovando. Dalla campagna arrivano storie interessanti, storie di cervelli in fuga verso l'estero, ma che poi è il cuore riportato in Italia, per lavorare una terra bella, ricca, prospera, da coltivare e far germogliare anche con l'innovazione digitale. Sono le esperienze di tanti giovani che stanno ritornando a riappropriarsi di un patrimonio non solo proprio fisico, cioè quello delle terre a volte lasciate incolte anche dai loro genitori, ma anche proprio culturale, antropologico e da un'opportunità forse offerta tra i tanti fallimenti del presente. Quindi c'è questo movimento di downshifting che vede molti giovani che hanno viaggiato, hanno studiato, ritornare alla terra con un know-how diverso, un know-how fatto di competenze agricole, ma anche della necessità di avvalersi di strumenti dell'innovazione. Un mondo da innovare e poi quello del vino italiano. Un mondo già avvocato alle nuove tecnologie, ma che ancora deve trovare la chiave di volta per rispondere ai cambiamenti che impone il mercato e per continuare ad essere competitivo a livello internazionale. Perché sicuramente si è capito che è un momento di svolta. Ce lo chiede, ce lo chiede il mercato, ce lo chiede il consumatore. Quale sia il modo migliore, lo stiamo un po' valutando tutti, ma non lo abbiamo trovato. Certamente quello di abbattere i costi, mantenendo una qualità. L'innovazione, l'attuiamo normalmente, certamente l'innovazione tecnologica è solamente un'opportunità, non solo un'opportunità commerciale, ma è anche un'opportunità di preservare l'ambiente, di risparmio energetico, una serie di interventi che sicuramente già si stanno attuando e che andranno sempre più incentivati ad essere attuati.